Buonasera, buonasera, una giornata ancora all'insegna del rapporto difficile dell'Italia con le istituzioni internazionali e non sono tanto i numeri, i numeri dell'Ox, del Fondo Monetario, della stessa Unione Europea a pesare quanto le parole molto, molto difformi tra Bruxelles e Roma Bruxelles e Roma in realtà è unificata dalla presenza del Presidente della Commissione Europea Juncker nel nostro paese, l'incontro diretto con Conte e due film diversi sentiti alla fine leggermente preoccupato ha detto di essere Juncker ma leggermente era una concessione all'ospitalità mentre Conte ha detto di essere fiducioso, abbiamo spiegato all'Europa come abbiamo messo in piedi una serie di misure che aiuteranno la crescita e resta l'impianto del DEF che abbiamo concordato proprio con Bruxelles se non che poche ore dopo e per la verità pochi minuti fa si è saputo di una dichiarazione di parole attribuite a Juncker in un'intervista a Euronet Plus un'emittente europea in cui si diceva da parte del Presidente della Commissione Europea che alcuni ministri italiani sono bugiardi quando non raccontano dei fondi europei che arrivano all'Italia e questo ovviamente scatenerà un'ulteriore ondata di polemiche ma poi c'è il tiro incrociato nel governo e nella maggioranza contro il ministro Economia e Tria che tiene duro, come si sa il tiro si è spostato al suo lato a una figura che è di diretta collaborazione rispetto a Tria l'economista Bugno che era stata indicata dal ministro anche nel Consiglio di Amministrazione nel board di un'importante società italiano-francese di microelettronica ebbene la Bugno rinuncia, fa un passo indietro e andrà per la verità nel Consiglio di un'altra società ma viene disinnescata quella bomba resta il malumore nei confronti di Tria e su molti altri argomenti ma oggi è successo un fatto importante noi da tanti anni lavoriamo sulle questioni italiane e raramente abbiamo visto un voto unanime di un ramo del Parlamento su un argomento spinoso e di solito divisivo addirittura con la standing ovation finale dei deputati si tratta delle norme sul revenge porn sapete benissimo su quel ricatto di vendetta dal punto di vista sessuale di cui si è parlato tanto in queste ultime settimane e che la scorsa settimana era stata la causa di una fortissima contestazione proprio nell'aula di Montecitorio perché una proposta che arrivava dall'opposizione e che doveva avere l'accettazione del governo era stata all'ultimo momento respinta oggi invece tutto si è ricomposto voto unanime la Lega tra l'altro rinuncia in questa sede ad avere quella norma così contestata sulla castrazione chimica che però verrà riproposta da sola diciamo poi ci sono però altri fatti perché abbiamo parlato di Europa e l'Europa attende di sapere cosa fa la Gran Bretagna e la Gran Bretagna non sa cosa fare questa sera l'ipotesi più gettonata che Teresa May ha apertamente evocato è di chiedere altri 40 giorni dopo il 12 di aprile fino al 22 di maggio una data non casuale l'ultima possibile per evitare che la Gran Bretagna partecipi alle elezioni europee indicando i suoi euro parlamentari la May vorrebbe anche l'intesa con Corbyn su questo poi torneremo agli affari italiani con le questioni sui vaccini il famoso provvedimento che vuole la maggioranza sia i 5 Stelle sia la Lega per rendere obbligatorio in realtà per poter essere accettati a scuola solo il vaccino per il morbillo ma vedremo anche altri fatti dall'Italia e non soltanto 30 secondi di titolo sullo Stato e il futuro dell'economia e dei conti italiani ci sono profonde divergenze tra il governo e le istituzioni internazionali alle preoccupazioni di Oxe Fondo Monetario, Unione Europea il Premier Conte replica che il rallentamento era previsto e che sarà importante e fondamentale il decreto per la crescita ma poco fa la notizia è che Juncker in un'intervista ha attaccato alcuni dei ministri italiani sono dei bugiardi riguardo ai fondi europei Pressing sul ministro dell'economia Tria che però non si arrende la sua consigliera di fiducia Bugno ritira la candidatura per il consiglio di amministrazione di ST Microelectronics ma è designata invece nel CDA dell'Agenzia Spaziale Italiana e Zingaretti intanto incontra i sindacati e propone un piano di 6 punti per la crescita alternativa a quello del governo Passi avanti nelle misure di contrasto alla violenza sulle donne intesa tra maggioranza e opposizione alla Camera sulla vendetta sessuale il cosiddetto revenge porn votano sì tutti i 461 presenti commette reato chiunque invii ceda diffonda immagini o video con contenuti sessuali senza il consenso delle persone interessate ed è punito con la reclusione da 1 a 6 anni la multa da 5.000 a 15.000 euro la Lega intanto ritira l'emendamento in questo provvedimento sulla castrazione chimica un compromesso con il leader laborista Jeremy Corbyn per trovare una proposta di accordo condiviso che possa ottenere l'approvazione del Parlamento dopo i 4 no incassati fino a oggi Teresa May prova a giocarsi un'ultima chance a Bruxelles la Premier chiede un nuovo rinvio per arrivare al voto di Westminster prima del 22 maggio data ultima per non partecipare come Gran Bretagna alle prossime elezioni europee presentato in Senato un emendamento firmato da Lega e 5 Stelle per cambiare la legge Lorenzin sull'obbligo di vaccinazione il testo della proposta prevede l'obbligatorietà solo della certificazione che attesta la vaccinazione contro il molorbillo per poter essere accettati a scuola assenteisti in un ospedale abusivo l'incredibile storia arriva dalla campagna Sessa Aurunca Casertano qui la struttura svolgeva attività senza essersi mai adeguata dal 2001 alle nuove normative sanitarie l'ospedale è stato posto sotto sequestro pur mantenendolo per attività necessaria in un'indagine parallela 18 persone tra medici infermieri amministrativi sono state indagate per assenteismo e poi eccoci qua buonasera e allora il fatto principale della giornata è sicuramente costituito dagli incontri del governo italiano con le autorità internazionali monetarie non solo un incontro in particolare quello tra Conte e Juncker ha portato a una divergenza diplomatizzata se non che poco fa è arrivato all'eco di una dichiarazione di Juncker che provocherà ulteriori polemiche andiamo per ordine alcuni ministri italiani sono bugiardi quando non rivelano i fondi europei dati all'Italia avrebbe detto Jean-Claude Juncker secondo quanto riporta Radio Euronet Plus Bruxelles e Roma oggi sembrano agli antipodi dall'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi il presidente della commissione europea ed il premier italiano escono parlando su due registri diversi sono preoccupato per il fatto che l'economia italiana continui a regredire dice Juncker e mi auguro che le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita avevamo previsto il rallentamento in corso precisa Giuseppe Conte e proprio per questo abbiamo realizzato una manovra che vuole perseguire una politica fiscale espansiva ma responsabile nonostante le cifre diffuse ieri dall'Ocse che in Italia per quest'anno certificano un arretramento del prodotto interno lordo dello 0,2% e un deficit nominale pare al 2,5% dello stesso prodotto interno lordo per il Premier tutto resta come già concordato con la Commissione Europea nel dicembre scorso in altre parole per Conte il rallentamento è congiunturale transitorio e non modificherà l'impalcatura fiscale del documento di economia e finanza per Juncker però reddito di cittadinanza e quota 100 misure bandiera dei due partiti al governo 5 Stelle e Lega avranno rispettivamente uno scarso impatto sulla crescita e un'incidenza nefasta sul debito pubblico come se non bastasse il numero 1 della Commissione invita l'esecutivo a non fermare i lavori sulla TAV è un progetto tecnico non ideologico serve una soluzione questa settimana assicura Conte approveremo il decreto legge crescita per ridare impulso allo sviluppo avremo strumenti di semplificazione normativa questa misura sarà la premessa per il rilancio di investimenti pubblici e privati sarà ma dopo i richiami all'ordine da parte del segretario generale dell'Ox e Gurria oggi anche la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale la GARD parla di una perdita di slancio dell'economia globale iniziata da gennaio e lancia un monito alla politica che dice deve assicurarci di fare i passi giusti sebbene il Fondo non prevede alcuna recessione nel breve termine la ripresa attesa per la seconda metà del 2019 e nel 2020 avverte la GARD è vulnerabile soprattutto per i rischi a ribasso legati alla Brexit quelle parole di Jean-Claude Juncker sul governo italiano in cui ci sono ministri che mentono che non raccontano dei fondi europei che incassano è destinata evidentemente a rendere ancora meno agevoli per usare un neofemismo i rapporti tra Roma e Bruxelles ma la verità è che c'è già nervosismo per qualcos'altro per la figura economica più rilevante all'interno dell'esecutivo il ministro Tria che è un tecnico come sappiamo da giorni subisce il fuoco incrociato dei 5 Stelle e anche di una parte della Lega sui soldi da dare ai risparmiatori truffati dalle banche e su una serie di scelte e anche sul proposta di Tria di mettere in un importante consiglio di amministrazione una sua diretta collaboratrice economica tutto questo rende il quadro appunto ancora più teso intorno alle 18 l'ultimatum lanciato ieri sera dal presidente del consiglio al ministro dell'economia perché facesse dimettere la sua consigliera di fiducia Claudia Bugno partoriva il più classico dei topolini Bugno ritirava infatti la candidatura per il consiglio di amministrazione della società italo-francese Este Microelectronics perché designata scrive una nota del ministero nel CDA dell'agenzia spaziale italiana ma senza decadere da consigliere precisava a stretto giro la portavoce di Tria un risultato non soddisfacente per i 5 stelle di governo che da ieri chiedevano la testa di Bugno o in alternativa quella di Tria la ragione in alcuni comportamenti inopportuni della consigliera imbarazzanti per lo stesso Tria assunta al ministero dell'economia nell'agosto del 2018 Bugno avrebbe contraccambiato facendo assumere il figliastro di Tria nell'azienda di cui suo compagno è amministratore delegato la consigliera avrebbe anche tenuto nascosta la multa di 121.000 euro a lei combinata per l'inefficace gestione del rischio quando era nel CDA di Banca Etruria due fatti che ancora questa mattina spingevano la grillina Laura Castelli vice ministra dell'economia a dichiarare che la consigliera è in contrasto con questo governo aggiungendo al fuoco sopracitato la benzina di altri conflitti con Di Maio su Alitalia e Tim in particolare naturale che la soluzione e lo spostamento all'asi sia sproporzionata rispetto alla sovraesposizione dei 5 Stelle che hanno impegnato anche il Premier viste le cronache del faccia a faccia di ieri insufficiente commenta Stefano Buffagni anche se voci del movimento cominciano a far trapelare che forse basterebbe che Bugno lasciasse le deleghe alle partecipate alle 19 fonti grilline sottolineavano che la giornata è ancora lunga come dire il braccio di ferro continua alle 19.40 alzavano il tiro via Bugno dal tesoro braccio di ferro solitario tuttavia perché la Lega ignora volutamente il caso se ha qualcosa da dire sul ministro fino a poco tempo fa percepito come leghista ma di recente sempre meno nel cuore di Salvini è sui rimborsi per i risparmiatori faccia presto Tria ma non si tocca no non si dimette nessuno nulla deve accadere prima delle elezioni europee lo sanno anche i 5 Stelle lo sa Tria che fa leva su eventuali reazioni dei mercati se il Presti incontro di lui dovesse tradursi in un licenziamento lo spread potrebbe salire specie in prossimità di un DEF che si annuncia difficile a meno che non ci sia un sostituto un nome alternativo e un accordo che ovviamente non c'è così è un Tria assediato che si accinge a scrivere il DEF dopo che il Consiglio dei Ministri giovedì pare avrà varato sblocca cantieri e decreto crescita quei decimali che possono tornare utili per le previsioni del 2020 in un quadro così teso il PD di Zingaretti si muove incontrando i sindacati e proponendo un piano in sei punti per la crescita e l'occupazione prove per la costruzione di un'alternativa e per la campagna elettorale che si apre ma c'è anche una parte della pagina politica che finalmente fa vedere più sereno quel che è successo oggi alla Camera è importante certo è su un provvedimento su un prevedimento singolo che riguarda le donne e su questo la sensibilità diffusa è trasversale però da quanto tempo non vedevamo su un tema specifico non su qualche mozione di principio un voto unanime della Camera con tanto di standing ovation finale un evento raro se non unico l'applauso di tutto l'emiciclo per segnare un voto condiviso il sì di tutti a cinque giorni dalle polemiche con la protesta d'aula delle donne e delle opposizioni all'emendamento che introduce il reato di revenge porn nella legge sulla violenza di genere denominata codice rosso perché vorrebbe aggravare le penne e accelerare i processi per questo tipo di reati la settimana scorsa la maggioranza giallo-verde aveva bocciato un emendamento analogo delle deputate Boldrini e Zanella le EU e Forza Italia meglio una legge organica dicevano i 5 Stelle che presentavano una proposta in tal senso al Senato vogliono solo la loro bandierina fanno propaganda sulla pelle delle donne accusavano le opposizioni ostacolano e ritardano la legge antiviolenza alla replica pentastellata poi il dietro fronte di Luigi Di Maio il via libera all'emendamento sul revenge porn in una nuova formulazione comune e oggi il voto condiviso si introduce il nuovo reato che punisce chi diffonde anche a scopo di vendetta immagini intime di una persona senza il suo consenso la pena prevista è la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5 a 15 mila euro pena aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge o da una persona legata sentimentalmente alla parte offesa se i fatti sono commessi con strumenti informatici o telematici se riguardano una persona in condizione di inferiorità fisica o una donna in gravidanza tutti in aula esprimono soddisfazione per l'accordo raggiunto e ogni parte lo rivendica a sé i 5 stelle sfoggiano una rosa rossa e prendono le distanze dai commenti sessisti registrati nel frattempo sui loro social contro le parlamentari demme e azzurre denunciati dalle opposizioni rientra anche la divisione della maggioranza sul tema della castrazione chimica per i violentatori la lega ritira l'emendamento sgradito ai 5 stelle ma promette una legge ad hoc il voto finale sulla legge codice rosso domani poi il passaggio al senato e andiamo alla brexit un guazzabuglio che adesso sta trovando forse una strana via di uscita intanto forse non saranno più dieci i giorni che mancano alla soluzione finale come si sa aveva chiesto due settimane dal 29 fino al 12 di aprile il governo britannico accordati dall'unione europea ma quel 12 aprile potrebbe avvedere aggiunti altri 40 giorni fino al 22 maggio ultima data utile per un voto che escluderebbe comunque per la gran bretagna la vergogna di dover dire scusate abbiamo sbagliato partecipiamo anche noi alle elezioni europee Teresa May questo chiede non di dire della vergogna ma i 40 giorni all'unione europea e chiede alle opposizioni quindi massimamente al leader laborista Jeremy Corbyn di trovare un terreno d'intesa comune per una proposta che venga finalmente approvata dalla Camera di Comune 8 ore di consiglio dei ministri per convincere il governo a provare una nuova strada quella della proroga dell'articolo 50 non oltre il 22 maggio data limite per la partecipazione alle europee e per ottenere la maggioranza parlamentare che in queste settimane è stato evidente non riesce a raggiungere Teresa May ha aperto ad un compromesso con il leader laborista Jeremy Corbyn gli chiederà di lavorare insieme ad un piano per il ritiro che comprende in parte quello pluribocciato dal Parlamento ma che riscriva le relazioni future con l'Unione Europea del resto mancano ormai pochi giorni per evitare il salto nel vuoto del no deal e mentre a Londra c'è chi fa di tutto per trovare una soluzione qualcuno lavora perché la soluzione non si trovi da Bruxelles e da Parigi arrivano parole dal tono definitivo per il caponegoziatore europeo Michel Barnier lo scenario dell'uscita senza accordo si fa ogni giorno più probabile sulla stessa linea il coordinatore del Parlamento Europeo sulla Brexit vero stato che dopo la bocciatura delle proposte alternative ha tweetato che al Regno Unito ormai resta solo una possibilità rompere lo stallo per non affrontare l'abisso domani verrà discussa una nuova bozza avanzata da un gruppo di deputati sia laboristi che conservatori per impedire l'uscita senza accordo e chiedere appunto lo slittamento della Brexit l'esito però è più che incerto anche perché Bruxelles concederebbe una proroga solo in caso di una svolta politica come nuove elezioni un altro referendum o ulteriori negoziati concetti sottolineati anche da Macron che oggi ha ricevuto il premier irlandese Varadkar il più coinvolto dallo stallo di Londra per la questione del confine con l'Asler che non ha ancora trovato soluzione se non quella del piano May e che è respinta dagli alleati del governo nordirlandese che non vogliono rimanere nell'unione doganale e nel mercato comune con un confine aperto come prevede il meccanismo del backstop il presidente francese è stato chiaro non possiamo restare ostaggio della crisi del Regno Unito siamo disponibili a dialogare ha concluso Macron ma il rinvio non è né certo né automatico vi devo dire che poco fa una nota del ministero della difesa algerino ha chiesto la destituzione immediata dell'attuale presidente Bouteflika come sapete Bouteflika che da 25 anni è al potere che a 80 anni voleva essere rieletto manifestazioni oceaniche a Algeri e in tutta in tutta la nazione perché ciò non avvenisse Bouteflika che è sceso a più miti consigli ha detto garantirò soltanto l'interregno per un anno poi libere elezioni anche questo però è stato osteggiato dalla grandissima maggioranza o perlomeno da una folla enorme di nuove manifestazioni e adesso dopo che Bouteflika aveva ulteriormente anticipato la data del suo addio al 28 di aprile la richiesta immediata di impeachment di fatto con probabile anche processo allo stesso Bouteflika evocato dai militari ma già che ci siamo e siamo nel Mediterraneo c'è un mistero che prelude a brutti sospetti perché un'imbarcazione con a bordo 50 migranti nella serata di ieri ha lanciato una richiesta di soccorso che è stata raccolta dall'organizzazione Alarm Fon e del barcone però si sono perse le tracce sarebbe trovato a nord di Zuara all'ancora all'interno delle acque territoriali libiche e quella è l'area SAR cosiddetta di responsabilità infatti del governo di Tripoli la guardia costiera italiana riferisce di avere immediatamente inoltrato le informazioni ricevute alla guardia costiera libica che ha assicurato l'avvenuta ricezione degli elementi forniti ma non si è più saputo appunto nulla torniamo alle cose direttamente italiane la vicenda dei vaccini delle vaccinazioni obbligatori dell'obbligo dei vaccini per poter accedere alla scuola della prima infanzia polemiche e continue e che hanno portato però gli esponenti della maggioranza a una proposta comune che ora è al Senato cioè praticamente limitare l'obbligo per poter accedere alla scuola a una sola vaccinazione quella sul morbillo adesso che dopo mille difficoltà si stava quasi andando a regime i dati sulle coperture vaccinali erano in netta risalita arrivano a nuova brusca virata del governo gialloverde una virata che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola al Senato ha prodato un emendamento firmato da presidente e vicepresidente della commissione sanità Pierpaolo Sileri 5 stelle Maria Cristina Cantù Lega in cui si chiede che venga modificata la legge Lorenzin sui vaccini e che sia abolito l'obbligo di presentare il certificato vaccinale per poter iscrivere i propri figli a scuola con un'unica eccezione per poter entrare in classe bisogna solo vaccinarsi contro il morbillo addio dunque all'esavalente si spinge verso il vaccino monodose così come chiesto a gran voce dai Novax una proposta che non vede il movimento 5 stelle compatto contrari presidi mondo scientifico ma che ha già incassato il via libera del ministro dell'istruzione bussetti che si è detto favorevole all'emendamento per aprire la scuola a tutti secca la replica dell'ex ministro Beatrice Lorenzin che dice ma siamo sicuri che il ministro dell'università e della ricerca sia lo stesso della scuola nell'emendamento è prevista anche una soluzione d'emergenza se durante i periodici monitoraggi infatti si dovesse scorgere il pericolo di nuove epidemie allora si correrebbe ai ripari sarebbe messo in atto un piano straordinario di vaccinazione a livello nazionale regionale o locale per scongiurare nuove emergenze la procedura però non sarebbe semplicissima e dovrebbe passare per un decreto del presidente della repubblica su delibera del consiglio dei ministri solo dopo una proposta del ministro della salute che deve consultare regioni province e istituto superiore di sanità tutto questo dovrebbe restabilire tempestivamente c'è scritto nell'emendamento un regime di raccomandazione quanto tempo richiede a questa procedura per far rientrare una possibile epidemia però non si sa ma poi ci sono altre possibili novità come il potenziamento dell'anagrafe vaccinale l'insegnamento nelle scuole primarie dell'educazione ai sani stili di vita e perfino il ritorno di un'antica figura come il medico scolastico infine capitolo delicatissimo i provvedimenti per i bambini immunodepressi che per loro patologie non possono vaccinarsi né rischiare di stare accanto a chi non è vaccinato per loro sono state previste classi dove sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati e andiamo a vedere Torino il giorno dopo ieri sera si è saputo della gravità della minaccia ricevuta dal sindaco dalla sindaca Appendino vado avanti la sindaca di Torino Chiara Appendino nasconde la preoccupazione dietro una solida fermezza il giorno dopo l'ordigno esplosivo arrivato direttamente nella portineria di Palazzo Civico sede del comune con una firma che per gli inquirenti è scritta quella degli anarchici in una città Torino che ha una lunga storia di anarcho-insurrezionalismo stavolta è lei il bersaglio ma non si nasconde un sindaco lavora per la sua città questo l'ho fatto sino ad oggi e continuerà a farlo ancora con maggior forza quindi avanti con determinazione è stata l'intuizione di un vigile urbano nella portineria del comune a evitare che quel pacco pronto a esplodere al momento dell'apertura della busta facesse danni ad insospettire in quel plico giallo indirizzato all'ufficio della sindaca è stato il mittente Scuola Diaz via Cesare Battisti Genova quella della macelleria messicana all'interno una pila due fili elettrici collegati a un sacchetto contenente della polvere pirica ci aspettavamo che sarebbe potuto accadere ci ha detto il questore Messina che non esclude che possano essere stati messi in giro altri pacchi esplosivi e il salto di qualità dopo quasi due mesi ad alta tensione cominciati con lo sgombero il 7 febbraio scorso del centro sociale asilo la base di un'associazione sovversiva l'aveva definita proprio il questore qualche giorno dopo alla sindaca era stata assegnata alla scorta minacce e intimidazioni ci sono stati i vari cortei degli anarchici l'ultimo sabato scorso sui muri del cimitero sono comparse scritte sempre contro Appendino e contro il PM titolare dell'inchiesta sul centro sociale sgomberato il pacco è partito qualche giorno prima della manifestazione ieri sera la sindaca attesa e provata con un post aveva ringraziato tutte le forze politiche che le hanno mostrato la loro solidarietà sulla matrice di quell'ordigno non hanno dubbi gli inquirenti l'area dell'anarco insurrezionalismo riconducibile proprio al centro sociale asilo un plico esplosivo che ricorda quelli già esaminati dalla polizia nell'ambito dell'operazione scintilla che ha portato allo sgombero del centro sociale all'arresto di sei persone accusate di associazione sovversiva istigazione a delinquere detenzione fabbricazione porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi il clima teso di queste giornate ha portato a aumentare le misure di sicurezza davanti ad altre sedi istituzionali nell'eventualità ha spiegato la questura che siano stati inviati altri pacchi bomba Duole dover tornare in campagna per un'altra storia che impatta sull'illegalità e sulla sanità ma questo è quello che è successo che si è scoperto a Sessaurunca Casertano l'ospedale di Sessaurunca punto di riferimento di tutti i comuni a nord di Caserta si scopre all'improvviso essere completamente abusivo svolgeva attività senza rispettare le norme previste per gli ospedali nel testo unico delle leggi sanitarie dal 2001 non si era mai adeguato alla nuova normativa se ne sono accorti i carabinieri del Nassa che hanno ispezionato i reparti e provveduto all'immediato sequestro della struttura che non aveva l'autorizzazione all'esercizio non rispettava nessuna regola dal punto di vista dei permessi ad esempio il reparto di terapia intensiva veniva utilizzato contemporaneamente anche come sala parto l'ospedale quindi è stato sigillato ma solo sulla carta perché il sequestro è stato disposto dall'autorità giudiziaria con facoltà d'uso vale a dire continuerà a svolgere la sua attività per evitare l'interruzione delle prestazioni e ulteriori disagi per gli utenti ma i guai dell'ospedale di Sessaurunca non finiscono qui un'indagine parallela dei carabinieri della compagnia di Capua ha scoperto i soliti furbetti del cartellino eccoli timbrare i badge di presenza e poi andar via sarebbero 28 tra medici e infermieri ad essere coinvolti nella truffa chi andava al supermercato a fare la spesa chi in uno studio privato a svolgere la doppia attività nell'orario del lavoro in ospedale una dottoressa sarebbe persino andata all'estero per tre giorni e avrebbe incaricato il figlio di andare a timbrare la presenza al posto suo c'era anche un patto tra i furbetti in camice bianco un giorno uno di loro firmava per 4-5 colleghi e il giorno dopo toccava ad un altro rendere il favore è stato tutto documentato dalle telecamere nascoste dei carabinieri che adesso su decisione del GIP dovranno accogliere in caserma ogni giorno i medici indagati il giudice infatti nel respingere la richiesta di arresto ha disposto che continuino la loro attività quella vera perché scrive il giudice l'immediata interruzione del rapporto di lavoro avrebbe ricadute negative sulla collettività già oltremodo pregiudicata dalle condotte criminose contestate ma avranno un obbligo presentarsi al comando dei carabinieri nei giorni lavorativi prima e dopo il turno e nei giorni non lavorativi due volte tra le 8 e le 11 e tra le 17 e le 19 questo è quello che è successo commentatelo voi direttamente noi siamo quasi al capolinea di questa edizione vi devo dire che dopo di noi a 8 e mezzo ci sono ospiti di Lili Gruber Pierluigi Bersani Evelina Cristillen e Andrea Scanzi poi è martedì e quindi c'è di martedì e tra gli ospiti di Floris ci sono Luigi Di Maio ma anche la sindaca di Roma Virginia Raggi e Carlo Cottarelli ci fermiamo E siamo infine alle borse vediamo come ha chiuso Milano praticamente in parità piatta più 0,01 l'ultimo indice Fuzzimib con come vedete lo spread a 258 punti base in questo momento a Wall Street indici poco mossi Dow Jones meno 0,35 Nasdaq più 0,19 tutto Gruber Flores ci vediamo domani sera buonasera